paola barale intervistata da silvia toffanina verissimo nel corso della puntata in onda domenica 9 gennaio 2022 ha rilasciato dichiarazioni di fuoco nei confronti dei suoi due ex storici gianni sperti e ras de gan la showgirl 54 n di fossano ha sottolineato in più passaggi che entrambi gli uomini sono stati sleali con lei sostenendo che non abbiano mai avuto il coraggio di mostrarsi nella relazione per quello che erano veramente un verdetto frutto di un ragionamento pensato a bocce ferme e lungo anni parole tanto dosate quanto affilate quelle pronunciate dall'ex volto di buona domenica la toffanina a un certo punto della chiacchierata ha persino chiosato uno stupito sconvolgente riferendosi a quanto udito e gianni e ras come hanno preso le esternazioni l'opinionista in forza uomini e donne che è stato sposato con la 54 n dal 1998 al 2002 dopo l'ospitata dell'ex avverissimo ha fatto campeggiare tra le sue stories instagram una frase del ballerino coreografo russo naturalizzato austriaco rudolf l'amicizia come l'amore richiede quasi altrettanta arte di una figura di danza ben riuscita ci vuole molto slancio e molto controllo molti scambi di parole e moltissimi silenzi soprattutto molto rispetto questa la massima scelta da sperti nessuna menzione a paola ma tutto fa pensare che la scelta di postare le parole di nureyev sia propria stata fatta in risposta alla showgirl anche perché coincidenza vuole che l'intervista della barale abbia proprio toccato i temi dell'amore e dell'amicizia nella fattispecie la 54 n ha dichiarato che non è nemmeno rimasta amica dei suoi ex considerandoli oggi solo dei conoscenti che l'hanno delusa e ferita profondamente evidentemente esperti parlando tra le sue stories instagram di molto rispetto ha voluto far intendere di non essere per niente d'accordo con la versione udita verissimo e ras de gan come ha reagito agli attacchi ricevuti con un assordante silenzio come era più che prevedibile il modello israeliano da sempre rifugge il gossip ed è arcinoto che non ama che vengano messe in piazza le sue faccende private quasi certamente non replicherà pubblicamente all'ex certo è che l'intervista che paola barale ha concesso a silvia toffanin non gli avrà fatto piacere d'altra parte a chi piace essere dipinto come una persona sleale non coraggiosa e finta